Qualche tempo fa raccontavi che Bobo aveva paura di essere dimenticato, adesso è proprio impossibile, vero? L'ho fatta apposta, noi giochiamo sempre così. Mi fa molto molto piacere che la sua immagine adesso sta girando in tutta Italia, che la nostra storia sta entrando in tante case e principalmente le mie cinque copie speciali ce le hanno in mano i miei bambini. Qual è stato il momento più difficile di questa avventura? Il momento più difficile di questa avventura è stato sicuramente vedere il libro fatto, quello mi ha fatto tanto male e c'è stato un momento che non sapevo se ero stata in grado a far arrivare ad Anna delle cose che volevo uscissero nel libro. Hai scritto per te, per i tuoi figli, per Bobo, per chi nasce questo libro? Per noi, per io e Bobo. Nasce questo libro perché dovevo ripercorrere e rivivere tutto quello che noi due abbiamo fatto insieme. Grazie a questo mi sono resa conto che sono stata la persona più fortunata al mondo. Hai raccontato tanto di te, tanto delle tue emozioni? Sì, Anna è riuscita a far uscire le cose che volevo io, è stata una grande e è riuscita a far uscire, scusate il gioco di parole, ma il dolore, che forse è quella cosa che non so per quale motivo non riesco a far vedere ai miei figli e quindi volevo sapessero che non è tutto sorriso quello che faccio vedere ogni giorno a loro. C'è tanto del mondo della pallavolo perché in fondo il mondo della pallavolo è stato vicino a te, ai ragazzi, a Bobo, a Riccardo di Bobo. Sì, la pallavolo è stata la protagonista anche di questo libro perché grazie alla pallavolo è successo tutto. Grazie alla pallavolo Bobo è diventato Bobo, grazie alla pallavolo il numero 16 sarà eterno, grazie alla pallavolo ci siamo conosciuti e per colpa della pallavolo forse, tra virgolette, per colpa di un palazzetto è uscito fuori quello che tutti leggeranno. Come ti immagini che i tuoi bambini leggano questo libro? Mi immagino che leggano questo libro entusiasti di leggerlo, contenti di leggere papà e mamma, contenti di leggersi loro e contenti di leggere l'amore meraviglioso che alla fine è il messaggio che io voglio far arrivare. È un libro tosto, molto tosto da leggere, molto intenso, però alla fine la storia d'amore viene fuori, cioè sembra davvero una storia a letto fine. Sì, perché poi a suo modo continua. Tante persone mi chiedono, oramai è diventata la domanda che mi fanno tutti, ma tu ti senti ancora innamorata di lui, che è la domanda idiota che mi fa la scrittrice. E sì, dico che ogni giorno che passa, ogni messaggio che arriva, ogni gesto di qualsiasi persona mi fa capire che sì, io lo amo più di prima. Racconti tanto di amicizie femminili, di donne che ti sono state vicine, che ti hanno aiutato, che sono diventate amiche strada facendo. Voi donne mette qualcosa in più? Noi donne balliamo bene quando siamo insieme. E sì, secondo me sì, Anna essendo una donna e avendo tante cose in comune, sì, siamo riuscite a far uscire queste... Le donne sono più sensibili, vivono con più intensità ogni sentimento. E sì, siamo state... è stata brava, è stata molto brava questa donna. Racconti un po' tu questo libro. Dunque, questo libro è stata una bellissima esperienza per me, una bellissima avventura. Intanto ho trovato un'amica in più e quindi comunque ho ricevuto una cosa importante. Ed è stato... non lo so, è avvenuto veramente tutto in modo molto spontaneo. Cioè io e Federica ci siamo trovate, incontrate, ci siamo aperte l'una con l'altra spontaneamente. E' stata una specie di terapia che abbiamo fatto reciprocamente. E appunto lei si sfogava con me, ma anch'io raccontavo a lei le mie cose. E quindi è venuto fuori tutto sull'onda di questa spontaneità, di questa amicizia, che in realtà era come se fosse nata un secolo fa, invece che pochi mesi fa. E poi Federica è una persona comunque estremamente coinvolgente. Cioè lei ti rende protagonista della sua vita. E anche questo lei lo fa molto spontaneamente. E quindi non ti senti testimone, ti senti proprio protagonista. Cioè ti ringrazia mille volte, ti gratifica. E quindi io che non pensavo nel libro di mettere niente su di me, invece la collaboratrice alla stesura sono io, e non pensavo di essere minimamente protagonista del libro. Invece lo sono stata proprio perché ho anche sentito, grazie a lei, che ci stavamo comunque aiutando a vicenda, ci stavamo dando molto a vicenda. E quindi è stato molto bello. Poi abbiamo anche molto riso. Cioè è stato, veramente non c'è stato, abbiamo pianto, fumato, ho ricominciato a fumare per colpa sua. Adesso ho smesso, ma se la rifrequento ancora un po' ricomincerò. Però abbiamo anche molto riso. Ogni volta, anche dopo aver pianto, ridevamo pure. Poi io adoro questo suo modo, spero sia venuto fuori nel libro, di parlare di suo marito prendendolo in giro, tuttora dandogli degli appellativi a volte poco gentili. E lo fa come fanno le donne innamorate.